Una presenza ancora più efficace sul territorio va anche in questo senso la presentazione oggi a Pescara dei nuovi dipartimenti regionali della Lega che si struttura in maniera ancora più capillare anche in vista delle prossime elezioni amministrative d'autunno. Questa mattina a Laurum la presentazione della nuova organizzazione del partito alla presenza fra gli altri del vice segretario federale nazionale Andrea Crippa. La Lega chiaramente presenterà i candidati sindaci condivisi chiaramente con le altre forze politiche del centrodestra in questo weekend e nelle altre due realtà che mancano questo weekend le presenteremo a Francavilla, a Lanciano e a Vasto. Dopodiché prossima settimana rimarrà Sulmona però ormai ci siamo siamo in due indirittura d'arrivo. È chiaro che la nostra ambizione è quella di governare da primo partito. L'abbiamo fatto due anni fa alle elezioni regionali perché abbiamo conseguito un risultato incredibile che dobbiamo consolidare perché qui la gente ci ha votato non perché abbiamo mai dimostrato qualcosa ma perché forse siamo l'ultima speranza per rendere l'Abruzzo una terra meritocratica e attrattiva. Adesso andiamo avanti in questo percorso anche nei comuni in cui si va il voto scegliendo non persone che appartengono a un partito o un altro ma scegliendo i candidati migliori per provare a dare le risposte in queste città perché secondo me il centrodestra deve andare oltre le bandierine di partito ma scegliere le persone più capaci e più competenti. Io credo che l'istituzione dei dipartimenti regionali che poi chiaramente ognuno segue una materia e un tema specifico sia un ulteriore processo di partecipazione che parte dal basso. I dipartimenti saranno 18, ad oggi abbiamo avuto 150 adesioni di professionisti, commercianti, operatori nel terzo settore del mondo della cultura, della scuola e credo che sia la soluzione migliore per cercare di portare proposte sempre maggiormente interessanti che partano dal basso all'attenzione del Consiglio regionale e anche dell'Aggiunta regionale quindi credo che su ogni materia faremo un lavoro certosino di confronto diretto con chi opera quotidianamente nei singoli settori e questo darà la possibilità alla Lega e alla Regione di Abruzzo di fare un ulteriore salto di qualità rispetto a quelle che sono le esigenze dei cittadini. Grazie. Grazie.